Sì, infatti... E come sei cambiata, nel senso hai fatto una dieta, hai... Sì, dieta, allenamento. Prima solo dieta, poi anche allenamento e pian piano mi sono, diciamo, formata come volevo io. Però ho avuto un'infanzia da cicciopanza. Vabbè ce sta, ma pure io ho un'infanzia, ma io andrò fino alla fine così. Cioè no, cercherò da dimagriti, la verità è un fatto... No, ho sistemato l'asciugamano che ho sulla sedia, perché essendo di pelle mi sudano le chiappe. No, perché... Sei spaventato? No, no, perché c'è stato un timing assurdo. Ecco. Vabbè... No... Infatti io ho la live di ritardo sul telefono, visto il momento in cui mi sono alzata, hai fatto una faccia tipo come si... Sono un fantasma. No, ma perché te sei alzata e hai fatto guarda. No, no, no. Cioè... Grazie per l'invito, grazie per l'invito, ti ringrazio... Ma poi tanto non c'è bisogno che te lo dica io, cioè figurati, ormai sono abituata. No, vabbè, io me permetto, ma io me permetto. Però grazie per l'invito, ti ringrazio, sei stato molto gentile. Grazie. Vabbè, ma andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ritorniamo a noi. Qual è adesso... Tu sei sbarcata su Twitch, no? Uh-huh. Qual è... Oddio, scusa, mi sta venendo a ridare la scusami. No! Scusate, ragazzi. Oh no! Mi sta venendo a ridere? Ok. Ok, perfetto. Torniamo a me... Scusate. Ok, dicevo, qual è la... Scusa, devo cercare un attimo. Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Verde? Sì, sì, è verde. Ok, perfetto. Allora, dicevo. Allora, dicevo, ecco. Grazie a tutti.